Per me il lavoro è la possibilità di mettersi in gioco. Per me il lavoro è un modo per guardare al futuro. Il lavoro per me è avere la possibilità di crescere come persona. Il lavoratore, prima di essere lavoratore, è una persona. E quindi la Chiesa di Roma è ben contenta di far parte di questo progetto. È il nostro dovere evangelico, vigilare sulla giustezza del lavoro. Siano rimosse gli ostacoli per entrare nel mondo del lavoro, tutti abbiano l'adeguata formazione per poter sviluppare i propri carismi. Quindi è un valore molto profondo che riguarda l'uomo ma riguarda anche Dio. Sta per stare con gli altri, sta per trovare un punto di incontro con le altre persone, sta per immedesimarsi, avere empatia con le altre persone. Il progetto Generale Futuro è un progetto che è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni e si pone l'obiettivo di rispondere a una domanda che frequentemente i giovani si pongono circa la propria identità professionale e la spendibilità sul mercato del lavoro. E abbiamo risposto a questa domanda aiutando i giovani a far luce su se stessi e quindi sostanzialmente sulle proprie competenze, alla ricerca del proprio talento e alla ricerca di quel filo rosso che cucendo insieme esperienze e competenze definisce l'identità professionale. Dal progetto Generale Futuro all'impegno Generiamo Futuro perché il lavoro dei giovani è la vera emergenza sociale, tanto della capitale quanto del Paese. Un'emergenza a cui non possiamo fare fronte con interventi spot e frammentati né tanto meno con interventi a compartimento stagno. È necessario dare vita a un cantiere permanente che coinvolga tutti i soggetti della comunità educante a partire dai soggetti che hanno attivato questa iniziativa e impegnando istituzioni, scuola, università per dare vita a un grande progetto condiviso dove ciascuno fa la propria parte per mettere il lavoro dignitoso in cima a tutte le priorità. È questo il punto di forza del cantiere dove la rete è l'autentico valore aggiunto che trasforma le addizioni in moltiplicazioni. Ho deciso di partecipare a questo percorso per trovare nuovi stimoli nel mondo del lavoro. Sono riuscito attraverso delle testimonianze importanti e formative ad accrescere il mio bagaglio culturale. Ogni intervento è stato accurato, preciso. Porteremo con noi tanti strumenti per poter finalmente trovare un lavoro che purtroppo per i giovani è complicato in questo periodo. Quindi abbiamo pensato di fornire ai ragazzi un kit di strumenti affinché si potessero proporre in modo efficace al mercato del lavoro. E quindi abbiamo creato un corner point che ha accompagnato i ragazzi all'elaborazione di un curriculum vite ben fatto e supportato dalla stesura di un portafoglio di competenze. Il progetto prevede anche la strutturazione di una fase di follow-up grazie all'attivazione di una rete agita che consentirà ai giovani che hanno le caratteristiche professionali, che hanno la giusta motivazione di avvicinarsi a un ambito professionale di proprio interesse. Vorrei un futuro in cui non devo lottare per un lavoro ma solo dimostrare che valgo per un lavoro. Riuscire a dare veramente me stessa, a donare agli altri ciò che io sono, ciò che posso realmente essere. Vorrei un futuro in cui il lavoro non sia un affanno ma un sospiro di sollievo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.